musica 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 vantaggio bella smash club sull'atterraggio basso stile di gioco veramente impeccabile sta spaziando le mosse non sta lasciando un buco attenzione perchè trova subito un doppio appena grande meccanica per le di kirby attenzione prova ad approcciare ma c'è sempre questa spada a dare fastidio attenzione ancora il beccane e qui andrà così per tutto il tempo e riesce a trovare addirittura il singolo frame ma è stato bravo ad aspettare fino all'ultimo lerdoge questo potrebbe chiampertoni ovviamente il tec oh madonna dove stava volando e poi blu link c'è stata ma da parte di blu link continuano a scambiarsi lo stage attenzio praticamente oh mamma mia attenzione aveva ancora salto la lettura uccidere c'è il gioco se ti mette una grab si praticamente anzi in teoria in teoria adesso sono even oh mamma il limite è andato via bello è qui a scelta appositamente per fare effetto banana oh no non ci credo la randomizzazione mamma mia sì sì esatto tanto qua bravo a tenere lo scudo si è bravo bravo attenzione è bella al back air e porta a casa che tanta giustamente vediamo comunque aia la prova oh mio dio l'ha fatta signori da un tilt in trottola molto molto bene parte ancora da un tilt prova la trottola che però non va attenzione perché paralizzato prova a prolungare parte la p e la chiude e la chiude ecco no accidenti è un po qui pitch brutta situazione a legge ontrasonic sonic abbastanza buono per coprire altre opzioni a legge ma in questo momento sezione opposta e razer che sta dominando questo neutro in questo momento lo mando anche il gerasim max vediamo il bear non entra attenzione il bear 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 ottimo spacing che sembrava quel fair per guardarlo ma non si ne può capitalizzare molto su queste situazioni ce la dia il doppio il doppio neutral b il doppio neutral b pazzissimo le cose rischiose l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto e sounds non ha fatto neutral heavy i personali saranno quasi sempre sullo stage a scambiarsi i rapidi colpi combo ecco una smash al fatto l'ha fatto ma come vincere questi due vabbè perché vanno a fumare ma che si fa che però riesce a portarsi a casa una bella combo da 20-30% attenzione la piattaforma di town in city gioca una parte molto importante e lascia fare diciamo queste cose a fox come appunto tutti quelli appena attenzione e vabbè come diceva rec laura non c'è chimera oltre che in cui in testa quindi veramente dieci hanno una roba fuori parametro da un lato c'è un luca di un cario è più non che non siamo a per non riesce il tappello il morsone ci riesce e tre a uno per chimera cioè comunque si tratta di uno stage abbastanza buono però non lo so non non avrei mai portato rezzer qui ecco il ladder esattamente per questo motivo sbaglia tantissimo qui forze russe attenzione uno decca qualcuno l'ho fatto uuuu lo shindrake e non un gioco infame gioco infame veramente invento invento attenzione prova il gimp questo best con alcun italia attenzione no l'ho fatto io 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 l'ho fatto che pezzo l'ho fatto siamo nes ganondorf ok allora quello che è successo allora se lo si è capito sono morti subito prima nocci e poi tu oh 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 vai 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 attenzione oh sta recuperando sta recuperando attenzione c'è il comeback oh 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 la stock in parità in questo momento non si può ancora dire la stock last hit ma vorrei davvero ci arrivassero parte la B riesce a rifugiarsi non c'è nessun tipo di trame prova il back air attenzione al fair belli side B è in brutta posizione in questo momento chimera bravo a ritornare con la B ma poi c'è il doppia pair non se la sente di andare col triplo ma va di side B esattamente la situazione opposta rispetto a prima un back air meromenale e Mirko si porta a casa la winner's final a a Grazie a tutti.